salve a tutti e ben tornati ben ritrovati qui su hermes channel web tv in una nuova puntata di sai che il sai che di oggi parla di arte culinaria e le tradizioni locali e quindi di cosa parliamo donato il calzone dalla terra alla padella valeria cos'è la sponzana questo ce lo dice rosana sportelli che cos'è il calzone come si prepara il calzone e questo ce lo spiega lorenzo mancini di castellana grotte però prima di vederci il video vi voglio ricordare alcune cose che comunque questa ricetta del calzone è una ricetta tipica pugliese pugliese barese poi ognuno le fa lo fa in tanti altri modi quindi questa è una ricetta particolare del nostro lorenzo ma la base è sempre la sponzana e infatti e fra poco scoprirete anche che cos'è però prima di vedere il video io vi vi consiglio di iscrivervi al nostro canale su youtube scrivete nelle ricerche hermes channel web tv e cliccate iscriviti il campanellino se volete che vi avvisa quando ci sono i nuovi video sì sì perché tanti video vi aspettano ancora e noi vi sorprenderemo ve lo prometto quindi in questo momento vediamoci il video e e gustiamoci il calzone ciao a tutti ciao a presto bentornati nella rubrica di sai che dalla terra alla padella ci troviamo a putignano presso l'azienda agricola mesa con la seconda genita della famiglia sportelli rosalba che si occupa della vendita e parte commerciale e oggi parleremo di una cipolla particolare dal nome sponsala utilizzata per fare una focaccia che si chiama calzone in puglia e nel barese rosalba raccontaci le proprietà di questa cipolla allora innanzitutto ve la faccio vedere questa è la sponsale appena raccolta e si pulisce togliendo le foglie esterne in modo tale da togliere il secco ok si può utilizzare fino a questo punto togliamo poi le radici la vediamo subito che rispetto alla cipolla una caratteristica longilinea e non tonda è più dolce rispetto alla cipolla classica ed è utilizzata particolarmente per le nostre cucine tradizionali infatti una classica pietanza che viene fatta con questa cipolla e il calzone grazie rosalba grazie a voi ci vediamo in cucina ciao a tutti ci troviamo a castellana grotte da panificio mancini con mitico lorenzo mancini mitico dopo grande successo che ha raggiunto con la focaccia barese sul nostro canale e oggi a sai che la tradizione pugliese di una focaccia ripiena di cipolla chiamata il calzone allora salve a tutti e grazie a tutti quanti per dedicare ancora un altro po di tempo alle nostre alle nostre ricette allora sì oggi parleremo del del calzone che è un piatto tipico della tradizione pugliese e quindi in quanto tale sicuramente è un piatto che viene preparato in diverse in diversi modi in base alla tradizione di ognuno in base al paese di provenienza oggi io voglio presentare quella che è stata la ricetta che è stata a me tramandata e che e che quindi io ho sposato da quando ho cominciato a fare questo lavoro allora innanzitutto partirei con il presentare gli ingredienti necessari alla realizzazione dell'impasto allora abbiamo innanzitutto la farina farina classica farina zero che è qui presente poi abbiamo dell'olio extravergine d'oliva e del vino ovviamente non può mancare il sale vorrei anche dire che si può sostituire la farina la farina bianca la farina zero doppio zero con qualsiasi altro tipo di farina in base ai gusti personali allora dopo aver presentato gli ingredienti passiamo all'atto pratico e quindi alla lavorazione alla realizzazione dell'impasto allora dobbiamo innanzitutto sciogliere il sale nei liquidi questa è una è una pratica a mio parere suggerita soprattutto se si lavora in casa e quindi se non si ha a disposizione una planetaria un'impastatrice perché perché così riusciamo a sciogliere per bene nel sale e quindi io procedo in questo in questa maniera sciolgo il sale nel vino allora dopo aver sciolto il sale nel vino possiamo inserirlo all'interno della della bacinella contenente la farina allora qui abbiamo mezzo chilo di farina e io ho appena inserito 10 grammi di sale sciolti in circa un 100 180 grammi di vino bianco allora adesso possiamo inserire anche l'olio extravergine d'oliva e a questo punto possiamo cominciare a impastare per realizzare la nostra pasta frolla lorenzo e di quanto olio? allora l'olio sono all'incirca 90 grammi 95 grammi allora possiamo terminare l'impasto una volta che i liquidi sono stati praticamente assorbiti sul nostro piano di lavoro e continuare ad impastare allora quando l'impasto risulterà essere liscio e non grumoso saremo arrivati alla fine del nostro impasto quindi una volta impastato possiamo metterlo a riposare per una mezz'oretta a giusto il tempo che il glutine dell'impasto si rilassi passata la mezz'ora possiamo procedere allo staglio del nostro impasto lo staglio praticamente consiste nel porzionarlo nelle dimensioni da noi desiderate in modo tale da riempire la nostra teglia in questo caso abbiamo una teglia di circa 12 cm di diametro che tra l'altro si può tranquillamente comprare anche in supermercato e quindi dovremo realizzare due palline da circa 150 grammi una fungerà da base e l'altra sarà il coperchio del nostro calzone uniformiamo le palline dell'impasto sì, allora realizziamo queste due palline e le mettiamo a riposare per un'altra mezz'oretta in modo tale che il glutine si rilassi allora passiamo adesso alla presentazione degli ingredienti necessari per farcire il nostro calzone allora il calzone pugliese nasce quindi come una specie di focaccia farcita con le cipolle allora le cipolle più nello specifico gli sponsali gli sponsali vengono praticamente prima puliti poi viene rimossa la membrana esterna e successivamente viene eliminato la parte superiore verde troppo dura e la base vengono poi messi a cucinare in acqua un filo d'olio e del sale finché non diventano, non si ammorbidiscono diciamo ma la cipolla non deve essere troppo colorata deve comunque rimanere bianca perché altrimenti potrebbe risultare indigesta gli ingredienti principali sono gli sponsali il secondo ingrediente sono sicuramente le olive denocciolate olive nere o olive verdi in base al proprio gusto e poi successivamente abbiamo anche le acciughe che sono tipiche della tradizione barese allora è importante dire che il calzone è comunque un piatto che varia in base al paese in cui viene realizzato allora trascorsa la mezz'ora possiamo procedere alla realizzazione vera e propria del nostro calzone allora prendiamo la nostra teglia e la dobbiamo ungere con un po' di olio la teglia può essere anche imburrata oppure può essere utilizzato uno spray staccante ma io sinceramente preferisco utilizzare l'olio quindi qui abbiamo le nostre due palline riposate, rilassate che adesso potranno essere stese e quindi messe nella nostra guantiera con l'aiuto di un po' di farina perché altrimenti l'impasto potrebbe presentare qualche difficoltà nella stesura è l'aiuto di un mattarello più o meno un millimetro, no un millimetro forse è poco necessario per riempire il fondo della nostra teglia dopo aver steso la base del nostro calzone e averla posta nella teglia si procede con la farcitura e quindi bisogna inserire gli sponsali all'interno del nostro calzone schiacciandole un po'? sì 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 bisogna distribuirli per bene per tutta la base del calzone e niente subito dopo vanno inserite le olive e le acciughe in base a insomma quelli che sono i gusti personali per esempio a me le acciughe non piacciono quindi per me la mia tipologia di calzone preferita è quella che prevede diciamo soltanto gli sponsali e le olive non ai bordi però non abbiamo messo i sponsali ai bordi perché? no perché è sempre bene lasciare un po' di spazio libero sui bordi in modo tale che poi il coperchio del calzone possa chiudersi per bene ultimo step inserire le nostre acciughe magari le spezzettiamo con le mani in modo tale da poter prendere tutta la superficie del nostro calzone ok adesso procediamo con la stesura del coperchio del nostro calzone e quindi siamo praticamente agli sgoccioli il nostro calzone una volta chiuso dovrà essere condito con un filo di olio extravergine e la superficie dovrà essere bucata in modo tale che i gas che vengono sprigionati durante la cottura possano fuoriuscire liberamente una volta adagiato il coperchio del nostro calzone sulla base bisognerà schiacciare per bene i bordi in modo tale che questi vengano chiusi per bene possiamo condire con un po' di olio e applicare qualche foro con una forchetta sulla superficie allora credo sia importante dire anche che il calzone può essere realizzato anche con la pasta della focaccia noi abbiamo realizzato il calzone con la pasta frolla però insomma c'è chi preferisce il calzone più morbido e quindi in questo caso sarà necessario realizzare una pasta di focaccia e c'è invece chi preferisce quello magari più tradizionale quindi un po' più fragrante realizzato con la nostra pasta frolla allora possiamo procedere adesso alla cottura del nostro calzone in forno statico una temperatura di circa 250 gradi per una tempistica di circa un quarto d'ora per questa pezzatura ovviamente se il calzone è più grosso richiederà più tempo per la completa cottura dopo circa un quarto d'ora siamo pronti per sfornare finalmente il nostro calzone ed eccolo qua il nostro calzone appena sfornato questo è il colorito che presenta dopo un quarto d'ora di cottura adesso siamo decisamente pronti per assaggiarlo perfetto, grazie Emilio Lorenzo grazie assolutamente a voi non vedo l'ora di poter insomma collaborare con voi un'altra volta magari sono ovviamente a disposizione vostra e di tutti i vostri ascoltatori beh adesso penso che sia finalmente arrivato il momento più importante di tutto il video ovvero quello della prova assaggio e sicuramente andiamo a valutare insomma l'operato che abbiamo fatto bellissimo grazie grazie a tutti in bocca al lupo Lorenzo sai che può interessare o coinvolgere anche te e adesso ci mangiamo il calzone grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.